Ciao a tutti, in questo video voglio parlare di istituzione, trasgressione e legge d'attrazione. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora, dobbiamo tenere presente questo, che la legge d'attrazione ci fa attrarre delle cose nella nostra vita che spesso non vorremmo, ma questo dipende dalle credenze profonde che noi andiamo a generare. Per cui dobbiamo stare attenti anche ai nostri comportamenti, perché i nostri comportamenti poi ci fanno attrarre veramente delle cose che magari ci generano profonda sofferenza e di un tipo o dell'altro tipo. Quindi noi dobbiamo essere sempre gli artefici. Allora, intanto ti informo che venerdì 6 dicembre 2019 alle 20.45 farò a Torino un corso completo sulla legge d'attrazione, nel riferimento è il 333 1511 703. E comunque in generale poi chi volesse abbonarsi al canale potrebbe avere accesso a formazione, diciamo, esclusiva, abbonandosi al canale Massimo Taramasco. Non a questo, ma al canale Massimo Taramasco. E detto questo, che cos'è la legge, com'è che istituzioni e trasgressione interagiscono con la legge d'attrazione? Beh, possono interagire in modi completamente diversi. Ad esempio, facciamo un esempio. Una persona che è eccessivamente istituzionale, cioè conforme ai ruoli, non sgarra mai, quindi si vive poche emozioni fondamentalmente, no? È tutta istituzione, tutta... è conforme ai ruoli, segue le regole, non sgarra, e di fatto vivrà una vita monotona e noiosa. Allora, se continuerà sempre su questi... su questi piani, il sistema, per legge d'attrazione, farà attraere esattamente l'opposto. Cioè, nella tua vita entreranno degli elementi, o ti innamorerai di persone fortemente trasgressive, che a un certo punto ti rovineranno la vita completamente, perché ti innamorerai, perderai la testa, poi a un certo punto non riuscirai più a controllare questi impulsi. Fintanto che tu riesci a gestire questi impulsi, a controllarli tu, sei tu che sei l'artefice della tua vita. Da quando comprimi troppo, poi diventano forze troppo forti che tu non riesci a controllare, oppure ti capiteranno anche proprio dei sinistri. Ti capiteranno dei sinistri, degli incidenti, ti capiteranno dei licenziamenti, delle separazioni. Cioè, attirerai questo tipo di situazione, perché a quel punto lì l'emozione non riesci più a controllarla, diventa un'emozione molto forte. Quindi è importante che siamo noi che invece riusciamo, quando capiamo che siamo troppi istituzionali, governiamo le cose e immogliamo un po' le briglie e iniziamo a vivere più emozioni. Nello stesso tempo, persone che poi sono eccessivamente trasgressive, eccessivamente vivono la vita anche con sofferenze, con forte emotività, eccetera, a un certo punto la legge di attrazione per riequilibrare il sistema ti fa coinvolgere magari con persone o con una setta, una setta piena di regole, oppure con persone che ti condizionano. Ecco, e ti innamori di chi ti manipola e ti condiziona, perché hai sgarrato troppo e quindi la legge di attrazione tende ad andare a ricompensare, insomma, a riportare. Il problema anche qua è che se tu non controlli la situazione, poi, come dire, il rimedio è peggiore della causa, finisci di buttare via il bambino con i panni sporchi. Quindi bisogna stare attenti a tutto questo, bisogna imparare a diventare artefici noi della nostra vita. Se vuoi imparare a gestire bene la legge di attrazione, e quindi anche l'istituzione della trasgressione, sapere come essere trasgressivo, quando esserlo, come trasgredire, o come recuperare l'istituzionalità, partecipa al mio seminario che farò a Torino, venerdì 6 dicembre, ore 20.45, riferimento al 333 15 11 703. Chi non potesse partecipare ai corsi, può sempre comunque abbonarsi al canale, andando sul canale Massimo Terramasco, pagina home col PC, a fianco al tastino, alla sinistra del tastino, iscriviti, c'è la tastina abbonati, ti abboni e potrai accedere a materiale esclusivo. Bene, comunque, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ed iscriviti al canale. Ciao a tutti!